La mia famiglia è la risposta nostra. Dalla Germania veniva una signora, la riceveva con tutto l'onore. Tenga una casa che è brutta parecchio, ma sta pulita che appare uno specchio. Scusate signora, a questi dici, se vi presenti questi mobblandici, ma sta tedesca, nascosto madonna, chiamare mobiglie queste cascione che noi adoperare magari in cantino per conservare un bottiglio di vino. Dalla saccoccia ci due boccette, essere queste profumi violette e poi quest'altra niente di meno l'acqua colonia che scorre sul reno. Voi dell'Italia non potete comprare i nostri profumi che tanto costano. Ci possono andare bene. Soltanto una risposta gli sono data, non vengono che dal rete sono cacciato. Arrizza la frucetta, questa signora è subito a domanda. E questa d'ora, cara signora, gli sono risposta, ma ti le dico quello che costa. Sentite la botta fatta in chino, questo è saluto da Abruzzo a Berlino. E il nostro profumo, che è forte parecchio, potete sentirlo pure con l'orecchio. E l'italiano, che è tanto gentile, lo vende per mille e trecenta lucili. Si vende in bottega di Monde e di Balle. Si chiama Suspir Faciula Coral. Grazie.